Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui sul nostro canale YouTube della Coppa Agricolarum per vedere le ultime copertine del venerdì di presentazione del nuovo DLC Gowell che uscirà appunto martedì 21 marzo, quindi martedì della settimana prossima. Oggi venerdì escono appunto queste ultime due copertine di presentazione di queste attrezzature e visto che sono le ultime facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto in questi venerdì. A riguardo di questo DLC appunto della Gowell che come vedete qui sullo fondo è il primo pacchetto della Season Pass del secondo anno. Il primo DLC D4 più l'espansione, la quinto DLC che è la Big Expansion, la grande espansione che uscirà a novembre di quest'anno. Quindi primo pacchetto, primo pacchetto appunto Gowell, DLC Gowell, ormai si sa è stato ben sponsorizzato, ben visionato. Quindi facciamo un piccolo riassunto, vi ricordo sempre che in descrizione al video se volete aiutarci a migliorare questa nostra partnership con Giant potete acquistare o il DLC della Gowell appunto, o il Season Pass per l'anno 2 tramite il nostro codice partner Agricolarum. In descrizione al video trovate tutti i link per l'acquisto dei gioco, dei vari DLC già usciti o del DLC appunto in uscita. Allora vediamo la prima schermata, la prima faccita uscita un paio di settimane fa ormai. Vediamo la Gowell, la G1 F125 Kombi, questa imballatrice della Gowell, due assi, balle tonde da 125 cm con il fasciatore posteriore. Quindi possiamo andare ad imballare direttamente l'erba e fasciarla con un'unica lavorazione. Richiesti 160 cavalli, un trattore con una cavalleria minima di 160 cavalli, ha una lavorazione di 17 km orari, pesa 9 tonnellate e con un costo di 96.500 euro. Una bella imballatrice, ne abbiamo già viste di questo tipo sia di default che come mod, per la Gowell è una nuova apparizione in farming. A memoria anche negli scorsi capitoli questa imballatrice non si è mai vista, quindi una bella novità. Andiamo avanti, seconda faccit, è uscita sempre un paio di settimane fa, abbiamo questo fasciatore per balle quadre, è trainato, lo trainiamo il G4010 Q Profi, va a fasciare sia balle tonde che balle quadre, costa 52.000 euro, un peso di 3,2 tonnellate, va a fasciare balle da 125 e da 150 cm di balle tonde e balle quadre da 180 cm. Qui nella screen vediamo che ha appena finito di imballare una balla quadra che viene raccolta con il BTGQ, che è la pinza per le balle quadre, balle quadre da 180 cm, la pinza costa 2.800 euro. Un bel fasciatore, interessante anche questo, viene rimorchiato nel campo, vengono caricate le balle fasciate e riprese con la pinza, quindi è una lavorazione, non è automatico la presa come certi fasciatori che passando di fianco alla balla se la prende in automatico la fascia e la sputta per terra, questo è un fasciatore manuale, diciamo così. Sempre una bella novità, anche questo mai visto tra le mod nei vari capitoli. Adesso passiamo a una faccia di uscita settimana scorsa, eccoci qua, abbiamo il G1015, è un fasciatore per balle tonde, vedete che va agganciato alla pala gommata, al caricatore frontale, avrà, credo che abbia vari agganci, o per il telescopico, o per la pala gommata, o per il caricatore frontale, appunto. Con questo ci si avvicina alla balle, si prendono le balle tonde, vengono fasciate, dopo si riappoggiano per terra, aprendo i due cilindroni sotto alla balla, anche questo va a fasciare balle tonde, da 125 a 150 centimetri, e abbiamo un costo di 16.000 euro, un costo contenuto per un'azienda virtuale di farming medio-piccola, appunto con un costo contenuto andiamo a fasciare le nostre balle tonde. Altra faccia di uscita settimana scorsa, imballatrice tonda, piccolina, della Gowail, 59.500 euro, 120 cavalli richiesti, quindi anche con trattori di piccole dimensioni, piccole cavallerie, 5,6 tonnellate di peso, quindi non va a pestare tanto il terreno, e fa balle tonde da 125 centimetri, qui nella screen vediamo una balla di paglia, questa è un'imballatrice classica tradizionale, senza fasciatore, quindi possiamo andare sicuramente ad imballare paglia, fieno ed erba, erba che dopo se vogliamo andremo a fasciare con il fasciatore, sempre dalla Gowail. Bella imballatrice, versatile, piccolina, comoda, veloce, quindi una bella, bella, un'altra bella novità. E adesso andiamo avanti con le ultime due facci sull'uscita appunto questa mattina, le vediamo velocemente in anteprima, ecco che abbiamo l'LT Master F115, è una stazione per imballatura, allora vedete che viene trainato in campo, nei pressi di campo, un'attrezzatura piuttosto ingombrante, chiede 120 cavalli per essere trainata e per fare la lavorazione, perché utilizza l'olio idraulico del trattore, e vedete che qui sotto, nel cassone dietro dove scarichiamo, ha una capacità di 20.000 litri, fa balle tonde da 125 cm, fasciate, e costa 240.000 euro, questo è un'attrezzatura per aziende virtuali grosse o che simulano il terzismo, quindi un bel macchinario. Vedete qui in fondo, nel cosa possiamo andare a fasciare, abbiamo la paglia, abbiamo il fieno, l'erba, abbiamo la pula, il trinciato di mais, abbiamo le barbabietole tritate e abbiamo la razione mista, quindi, sì, quello lì è il simbolo della razione mista, quindi, se abbiamo problemi di spazio, che non abbiamo silo dove scaricare anche le barbabietole tritate o la razione mista, possiamo imballare e mettere a dimora sotto i capannoni le balle, anziché il materiale sfuso. Andiamo, attrezzatura che aspettiamo da tanto, abbiamo già visto su Farming, grazie al nostro abbassador Peppe, vediamo anche un altro macchinario, sempre della Gowheel, sempre il Master, però questo è il vario Master V140. Questo ha, di differenza da quello precedente, non fa solo balle da 125, ma riesce a fare anche balle da, oltre da 125, anche da 150 centimetri. costa un po' di più, vedete, 259.500 euro contro i 240.000 euro, richiede comunque solo 120 cavalli, come il precedente, e possiamo sempre fare paglia, erba, fieno, erba, trinciato di mais, barbabietole e razione mista. Bene, con queste ultime due facit abbiamo visto la presentazione, di tutte le attrezzature, mi sembra che ne manca una, mi sembra che dal, da quanto mi ricordo, nel pacchetto Gowheel c'era anche la pinza per le balle tonde, oltre che la pinza per le balle quadre, comunque sia un nuovo marchio che arriva, che sbarca su Farming, è una nuova partner per Giant con un altro brand a livello europeo, un brand, la Gowheel è un'azienda austriaca, vi ricordo, se volete vedere un attimino, una piccola presentazione che avevamo fatto come Coppa Agricolarum, all'uscita, la presentazione appunto di questo DLC, avevamo fatto un piccolo video dove spiegavamo un po' tutto. Bene, detto questo, io vi ringrazio innanzitutto per averci, aver seguito questo nostro piccolo video di presentazione, grazie alla nostra partner con Giant abbiamo potuto fare questo video in uscita praticamente contemporanea alle ultime due faccite di oggi, quindi vi ricordo di nuovo, iscrivetevi al nostro canale YouTube Coppa Agricolarum, ringrazio chi fino adesso si è iscritto, ringrazio anche chi vuole iscriversi, ci supportate tutto gratis, non chiediamo nessun abbonamento né nulla, è tutto gratuito, seguite anche le nostre serie, e ricordo che se volete comprare il gioco DLC, o il Season Pass per quest'anno, con i 4 DLC più l'espansione finale, con la mappa con le carote, qui in descrizione al video trovate tutti i link con il nostro codice di affiliazione, che è appunto la scritta Agricolarum, tutto in maiuscolo. Di nuovo grazie di tutto e vi aspettiamo ai prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.